Oggi vedremo come installare Webman Mod su PlayStation 3 nella maniera più veloce possibile. Allora, prima di tutto assicuriamoci di avere una pennetta USB formattata in FAT32. In seguito recatevi sul link che troverete in descrizione che vi porterà a questa pagina, voi cliccate sul primo download che è quello di Webman. Finito il download, prendiamo questo file .pkg e lo copiamo all'interno della root della nostra pennetta USB. Siamo ora sulla nostra PlayStation 3 con Custom Firmware, spostiamoci su Package Manager e andiamo a installare il nostro package file dalla root della nostra pennetta USB. Terminata l'installazione possiamo tornare indietro e ci ritroveremo questa applicazione tra i giochi. Ora qui avremo due opzioni, installare la Full Edition o la Light Edition. Quello che vi consiglio io è di installare la Full Edition, quindi si fa tenendo premuto L1 e X per avviare il programma. Terminata la procedura, la vostra PlayStation 3 si riavvierà e l'icona di avvio di Webman dovrebbe apparire. Ora la vostra PlayStation 3 probabilmente sarà diventata più rumorosa. È normale in seguito all'installazione di Webman, ora vi mostrerò come risolvere. Andiamo su Webman Games, Setup di Webman. Clicchiamo ora su PS3 Webman Setup. Ci aprirà questa scheda del browser. Ora qui abbiamo diverse opzioni da cui scegliere. Possiamo scegliere una velocità manuale della ventola a una certa percentuale, un controllo dinamico in base a una temperatura massima da noi scelta, oppure lasciare il controllo della ventola al System Controller, che sarebbero le impostazioni di fabbrica della vostra PlayStation 3. Ora io non vi consiglio necessariamente di lasciarle al System Controller, perché questo potrebbe risultare in temperature molto più alte. Ciò che vi consiglio io è di impostare un controllo dinamico della ventola in base a una temperatura che scegliete voi. Per esempio io qui ora vado a impostare 65 gradi. Però se volete avere le impostazioni di fabbrica, basterà cliccare su Siscon, cliccare Salva e cliccare questo tasto per riavviare la PlayStation 3. Bene ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se fosse stato così, commentate, iscrivetevi, mettete un mi piace. Seguitemi su Instagram, il link ovviamente lo trovate sotto in descrizione. Penso non ci sia altro da aggiungere, quindi io vi saluto e noi ci vediamo dall'altra parte. Grazie a tutti.